ciao a tutti amici io sono Franco Aversa e oggi voglio parlarvi di un software di montaggio editing veramente basilare però con alcune caratteristiche simpatiche e magari potremo utilizzarlo se abbiamo già un programma di montaggio proprio per sfruttare queste caratteristiche particolari oppure se non abbiamo nessun software e siamo alla ricerca di qualcosa per far degli editing semplici con degli effetti o sfruttare delle template questo farà proprio al caso vostro ovviamente sto parlando di un software che gira sotto windows forse ne avete già sentito parlare forse lo utilizzate già io ve lo presento è clipchamp era di un'azienda australiana ed è stato acquistato nel settembre 2021 dalla microsoft quindi era possibile utilizzarlo in versione gratuita o con una versione premium chiamiamo così che dava accesso a altri contenuti poi dal settembre 2022 e per questo che ne parlo è stato integrato nella versione di windows 11 ma andiamo a conoscerlo e capire cosa mi ha attirato di questo software ed eccomi qua all'interno del programma quindi come detto i possessori di windows 11 se lo cercano lo troveranno integrato come vedete in realtà è scritto aggiorna e questo farà aggiornare alla versione premium che appunto dà accesso a più contenuti ma in realtà non è necessario e questo software può esportare i video con tre risoluzioni diverse beh una veramente bassa è la 480 adesso poi lo vedremo una hd e una full hd quindi magari potremmo utilizzare il full hd qui siamo in una pagina o dove vengono presentate come vedete più aree una andiamo a creare un nuovo video partendo da zero un'altra possiamo registrare qualcosa e questo potrebbe anche tornare utile a chi fa gaming cosa vedete possiamo registrare una webcam oppure lo schermo e il microfono poi abbiamo tutta una serie di modelli e template già predisposti per creare delle sigle la cosa simpatica è che sono completi anche di musica o effetti sonori questi modelli li troviamo qui come vedete ma sono anche già presentati qui andiamo a cliccare qui sono suddivisi anche per categorie ad esempio abbiamo dei modelli qua sopra generici poi abbiamo intro outro come potete vedere stando sopra col mouse possiamo già vedere cosa andremo a realizzare poi possiamo scorrere ce ne sono molti altri quindi queste potrebbero essere intro outro per vostro canale youtube poi troviamo anche formati diversi in verticale o quadrato per instagram come detto youtube e anche altri social media videogiochi e così via sono caratterizzati da grafica scritte e anche video e ovviamente i video potrete sostituirli con i vostri facciamo un esempio dei template e dopo invece vi presenterò quello che è un po l'interfaccia e le cose che mi sono piaciute prendiamo ad esempio questa intro per un canale di game clicco una volta vedo un'anteprima e poi faccio usa questo modello o anche delle informazioni come avete visto sul rapporto immagine che comunque viene segnato qua in alto 16 noni o un importazione dei contenuti che andranno scaricati ora il nostro video è stato caricato e premendo play possiamo visionarlo e come avete sentito c'è anche la parte audio vediamo un attimo com'è suddivisa l'interfaccia abbiamo appunto qui un grande viewer è uno solo dove troviamo i classici comandi in questa toolbar del player la lingua è in italiano per cui tutti i menu e i comandi a video saranno in italiano e questo anche facilita troviamo qua anche una a pieno schermo e quindi ci ritroviamo i comandi del lettore qui da questo possiamo riuscire come vedete abbiamo qui un'area di nostri media che varierà in base a cosa stiamo facendo ora siamo nella cartella i tuoi multimediali come vedete qua abbiamo questa barra con altre possibilità altri tool lo stesso qui a destra e in basso la classica timeline con la suddivisione temporale e i nostri video come vedete questo è il template che abbiamo appena aperto si vedono chiaramente le varie clip dei vari contenuti e se ad esempio vogliamo andare a personalizzare queste scritte iniziali ci basterà saltare sulla titolatrice che come vedete questa viola con le scritte quindi ad esempio voglio cambiare la scritta your name clicco qui viene evidenziata e cliccando sul testo si aprirà un pannello con anche un'indicazione usa test per modificare le impostazioni del titolo quindi usando qua posso andare a scrivere franco aversa poi non è necessario ovviamente mettere quello che è scritto ma potete anche modificare se io non voglio il nome del canale ma voglio scrivere tutorial di clip jump posso saltare sotto vado in questa parte e scrivo tutorial clip jump ed ecco qua come vedete ovviamente in quest'area troviamo il font che si possono utilizzare possiamo caricare font personalizzati l'allineamento delle scritte mentre per quanto riguarda la dimensione del font si può fare direttamente a video una volta personalizzata la parte del testo per esempio posso personalizzare anche un video che a me non interessa vedere questo giocatore quindi questa è una semplice clip video la seleziono e con delete da tastiera la cancello da qui posso importarmi dei miei elementi multimediali ecco qui dove ci sono io aprire questo contenuto che un attimo sarà importato posso vederlo in anteprima e posso aggiungerlo alla timeline da qui possiamo fare diverse cose ad esempio vedete che qua c'è un titolo e a me non serve vado con questa lente a rimpicciolire mi vado a posizionare e utilizzando questa serie di tool che trovo in quest'area centrale posso tagliare è molto elementare come vedete e rimuovere questa parte facciamo un delete come vedete cancellando un elemento ci viene segnata quest'area come buco come gap e ci viene un'iconina di un cestino quindi cliccando qua andremo a cancellare gap interessante che il buco viene riconosciuto vedete queste linee e in fase di esportazione ci avvertirà il software che c'è un buco nel nostro montaggio perché in quest'area non c'è nulla ma io ora vado a cancellare il gap e recuperarmi questa parte qui che mi interessa qui andrò nuovamente a selezionare e cancellare quest'area e cancellare la fine sugli elementi quindi sul nostro video possiamo fare varie operazioni come vedete una volta selezionata la clip oltre ad avere delle maniglie per cui capiamo subito possiamo andare a ridimensionare questo video qui abbiamo già delle impostazioni ad esempio riempi se il nostro contenuto non ha il formato corretto potrebbe essere il caso di una foto ad esempio possiamo andare a riempire clippando l'elemento qui abbiamo un ritaglia quindi potremmo fare un crop del nostro video abbiamo un piccolo in piccolo quindi potremmo andare a riempicciolire il nostro video possiamo flipparlo invece tutto ciò che riguarda il nostro elemento ad esempio la parte audio la dissolvenza i filtri eccetera regolazione colori e velocità anche del video le troviamo da questa parte quindi ad esempio andiamo applicare un filtro ecco qua tutti i filtri è simpatico posizionarci direttamente su un elemento per vedere l'anteprima anche sul view per grande ad esempio io voglio come prima c'era una clip sul celeste e quasi aggiungere questo effetto inverno clicco e sono già posto posso anche regolarne come vedete l'intensità ovviamente un effetto esclude l'altro come come state vedendo quindi se vado ad aggiungere un effetto andrà a escludere l'effetto precedente potremo anche regolare così i colori quindi l'esposizione il contrasto la saturazione del nostro video se vogliamo farlo in bianco e nero per esempio eccetera e la temperatura anche la trasparenza è un eventuale modo di blend di sovrapposizione ai video che stanno sotto ora non abbiamo nessun altro video io vorrei aggiungere anche qualche elemento grafico e vi anticipo che andando su video di archivio avremo la possibilità di accedere ad alcuni video gratis quindi anche background grafica mentre come detto quelli con il diamante necessitano dell'upgrade ma se scriviamo qui ad esempio cartoon questa è l'unica cosa in inglese che dobbiamo scrivere graphics element come vedete possiamo accedere a della grafica che possiamo sovrapporre io ad esempio vado a utilizzare questo e su questa grafica come vedete ci sono degli elementi che passano tutti diversi uno dall'altro se mi piace una cosa ad esempio a me piace questo giro qui vado a posizionarmi dall'inizio e posso anche trimmare il mio video così faccio finire e posso trimmarlo dalla fine ecco io tengo questo passaggio ora lo vado a sommare qui come vedete è già riconosciuta la trasparenza se invece ci posizioniamo tra una clip e l'altra vedete questa è selezionata così questa così se mi metto in centro un più che andrà aggiungere una transizione le transizioni verranno aggiunte qui e anche qui in questo caso posizionandoci possiamo già visualizzare la la transizione e cliccando applicarla ovviamente possiamo applicare un'unica transizione alla volta quindi per i cliccando andremo a sostituire la precedente ecco avete visto che simpatico c'è la grafica e la transizione che si sovrappone come vedete quindi a livello di qualità di quello che possiamo produrre non è per nulla male andiamo a esportare video cliccando qua e qui ci chiede come detto la qualità noi andremo a selezionare esempio il full hd a 1080p il video viene generato perché aveva anche contenuti appunto che abbiamo scaricato da multimediale qui possiamo vederne un'anteprima perfetto io lo userò ad esempio come sigla e lo vado a salvare sul computer e ora possiamo andarlo a visionare continuiamo nella modifica qui possiamo cliccare per tornare alla home page e vado a farvi vedere invece altre caratteristiche simpatiche creiamo un video da zero per esempio in quest'area che diventerà il nostro media poi cioè l'area dei tuoi contenuti multimediali possiamo anche trascinare contenuti da una nostra cartella vado a prendere qualche clip a caso da vecchimi contenuti tanto per vedere e lo trasciniamo qui ecco qua abbiamo una preparazione dei contenuti ecco qui quindi andiamo ad esempio a trascinare un primo elemento e selezionare da dove vogliamo partire abbiamo visto se non vogliamo l'audio c'è una piccola iconcina qui che possiamo premere per escluderlo andiamo a tenere questa prima parte così e quindi qua possiamo ottimarlo così o cancellarlo andiamo a vedere le musiche cliccando qui musica come vedete gratuito gratis gratis possiamo andare a vedere anche altri elementi sempre gratuiti possiamo accedere alla musica ok io sceglierò questa prima quindi faccio premo più per raggiungerla alla timeline e poi non faccio altro che riposizionarla ritorniamo nei nostri contenuti multimediali e vado aggiungere le altre clip ritagliando le io voglio prendere questa parte qui posso utilizzare la forbice e s per split attenzione che come vedete taglia tutte le due tracce quindi preferisco trimmare fino qui poi non è detto che non si possano richiedere alla microsoft di aggiungere delle nuove funzioni quello potremo sicuramente farlo come vedete sempre sotto la musica possiamo scegliere anche effetti sonori ce ne sono molti sempre di gratuiti possiamo anche ricercare qual tipo di effetto mettiamo questo in apertura aggiungiamo ai file multimediali perché io lo voglio in un punto particolare quindi non voglio che lo butti salata in line vado a prenderlo io e lo inserisco qui e lo vado a posizionare tra le due clip bene quando c'è il rumore premo più e ad aggiungere una transizione ad esempio questa andiamo a vedere come vedete molto carino adesso vi faccio vedere invece una cosa molto simpatica se vado sulla seconda registra e crea ho la possibilità di registrare lo schermo e la webcam come detto solo la webcam solo uno schermo e questa invece è la cosa molto interessante la sintesi vocale clicchiamo perché perché in questa sintesi vocale oltre inserire la lingua e poi se la ricorderà guardate quante voci avete io credo che nessun software gratuito vi metta tutte queste voci lasciamo Isabella e vi faccio sentire una voce ho un tipo di voce allegro generale una tonalità della voce addirittura poi posso regolare sarà lenta regolare o rapida e qua vado a scrivere il mio testo ecco abbiamo possibilità di ascoltare un'anteprima questo è un video delle vacanze di franco aversa se non ci piace possiamo ritornare con un'altra voce questo è un video delle vacanze di franco aversa è stato girato in montagna nel luglio 2015 come sentite è possibile trovare anche delle voci piacevoli questo è un video delle vacanze di franco aversa è stato girato in montagna nel luglio 2015 ok voglio utilizzare questa quindi salvo nei file multimediali e poi posso posizionare la mia voce dove desidero a questo punto dovremo andare nella nostra traccia musicale creare un taglio e abbassare il volume oppure c'è possibile esportare solo la traccia della voce come dicevo per usare in altri software se vogliamo aggiungere un titolo possiamo cliccare qui molto simpatico abbiamo un titolo generico o tutta una serie di movimenti come vedete già predisposti molto carini quindi possiamo guardare qui i tipi di animazioni che abbiamo e poi possiamo portarli in una traccia e come facciamo prima personalizzarle andiamo avanti con il nostro montaggio rapidamente come vedete è possibile aggiungere anche dei sottotitoli addirittura automatici mettiamo la lingua italiano attiva i sottotitoli e guardate che bello abbiamo dei sottotitoli sulla voce che abbiamo inserito sulla traccia audio che abbiamo registrato noi si può editare vedete se devo cambiare qualcosa ecco qua ha voluto spaziare aggiungere l'accento ovviamente potevamo correggere anche la voce perché pronunciasse più il verbo avete visto che ha preso anche attento sulla traccia audio quindi vado a spegnere queste questi audio proviamo a fare posta inserire magari un parlato ho importato un'intervista aggiunta abbassato un po l'audio e mi ha generato automaticamente i sottotitoli come vedete la trascrizione è perfetta quindi pensate potreste caricare anche un master generato con un altro software e utilizzare questo software solo per l'inserimento di questa sovrascrittura con il titolo sarebbe carino se questo in seguito potesse essere ad esempio tradotto potrebbe essere un'altra cosa che andiamo a chiedere alla microsoft cliccando su immagini di archivio possiamo aggiungere foto e immagini da un archivio sempre con immagini gratuite quindi potremmo usarli come background ma non so se avete visto su video di archivio possiamo comunque ottenere background veramente belli guardate quindi ad esempio se vogliamo inserire un fondo come vedete la linea ci permette di inserire anche una traccia non esistente e quindi di crearla questo è veramente simpatico e potrebbe essere utilizzato anche in altri software quindi andiamo a posizionarci il nostro background su una linea inferiore andiamo a selezionare il nostro video e andiamo a ridimensionarlo vedete che a video appare anche una centratura e qua andiamo a cliccare picture in picture come vedete nella sua semplicità estrema è un software che comunque ci permette di fare parecchie cose adesso andiamo ad esempio a regolare un po' il contrasto come vedete l'esposizione un po' va ad aumentare la saturazione ecco senza esagerare e regolare quella che è la temperatura così sembrerà un po' più soleggiato quello che vi dicevo del vedete tipo di composizione con la traccia sotto ad esempio un blender mi ha fuso un video con un altro e quindi ho diversi tipi di possibilità e poi qua come dicevo abbiamo possibilità di cambiare la risoluzione del nostro video quindi magari un attimo potremo adattarlo a uno a uno a un video quadrato e qui nell'eventualità bisognerebbe cliccare qua per riempire il nostro schermo e riadattare alcuni elementi però vedete che si può fare ecco qua ho ottenuto magari un video per instagram come prima andremo a esportarlo abbiamo anche contenuti grafici cliccando qui sulla grafica abbiamo possibilità di inserire degli adesivi in movimento ho anche altre scritte contenuti GIF animati questi mi sembra che siano tutti gratuiti per cui ad esempio ecco vedete solo trascinando lì l'ho sovrapposto in un'altra traccia del video e lo vado ad inserire come prima posso magari variare aggiungere filtri per variare i colori come vedete già abbiamo un'anteprima di quello che succederà possiamo anche fare degli effetti come avete visto dove il tipo di input si moltiplica perdendoci un po' di tempo come vedete possiamo fare cose simpatiche nella versione poi premium avremo anche un kit del marchio dove potremmo creare colori e una specie di caratteristica del nostro brand che potremmo aggiungere a tutti i video che andremo a creare in seguito Windows 11 ci aiuta a importare gli elementi anche da OneDrive, Google Drive, Google Photo, Dropbox e come vedete dal nostro telefono perché non so se sapete che Windows 11 ha la possibilità di connettersi al nostro telefono e quindi senza dover per forza collegare cavi eccetera possiamo cliccare ora si vedete possiamo scansionare questa icona attiveremo un'app che abbiamo scaricato sul telefono per scaricare i contenuti e aggiungerli direttamente alla nostra timeline se vi è piaciuta questa panoramica di questo software e volete avere ulteriori informazioni o se volete che io faccia tramite anche con la Microsoft per proporre ad esempio quello che può essere il ripple della timeline perché se vado a fare un trim della clip come vedete mi segnala il buco ma non c'è la possibilità di tenere agganciato il contenuto quindi fare un ripple della timeline quindi magari queste cose potremmo comunicarle per far migliorare il software e magari prendere solo quello che c'è di buono ma chi appunto ha Windows 11 e non sapeva cosa utilizzare da oggi può usare questa app integrata io vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati cliccare sulla campanella e se avete domande da pormi scriveteli sotto i video inerenti così io saprò che quella domanda è relativa a quel video e quella risorsa grazie e a presto ciao Ciao